Lo hanno cercato in tanti, alla fine lo ha preso il bitonto. Pasquale Riccardi, centrocampista offensivo classe 2003, è stato in ordine cronologico l'ultimo innesto in entrata nella sessione invernale dedicata al calciomercato dei dilettanti. Arriva dall'Ascoli e dall'esperienza nell'Under-19 dei marchigiani. Per il promettente giovane napoletano, quella è nero-verde. Sarà la prima parentesi in carriera tra i grandi. Credo che il percorso in una prima squadra di Serie D sia molto importante. Valutando con le persone che ci sono dietro con me, ho scelto di fare questa scelta. Per me è molto importante questo percorso di crescita. Riccardi rappresenta un'opzione in più per il tecnico Claudio De Luca sia nella scelta del 2003 da schierare sia nell'assortimento di centrocampo. Al fianco degli esperti Biasson, Addae e Manzo e dei giovani Mariani e Piarulli può ricoprire tra l'altro anche più ruoli. Per me l'importante è giocare. Poi posso fare bene da mezz'ala, da esterno-sinistro, trequartista. Però per me l'importante è la priorità di giocare. Ora Riccardi attende con ansia il momento dell'esordio con la maglia del Bitonto che non avverrà però prima del 23 gennaio, dopo la decisione della Lega Nazionale Direttanti, di sospendere il campionato di Serie D per le prossime due domeniche. Un bel gruppo, siamo molto forti, un gruppo unito. Scherziamo, ci divertiamo, però quando siamo in campo diamo il massimo. Il mister, il staff, il prof, tutti molto bravi e molto disponibili. Lo stesso con la dirigenza, il direttore e tutto.